Dagli studi del sito web www.radioprimacircoscrizione.info vi annunciamo la notizia che è stata pubblicata dal quotidiano BariSera in data martedì 26 aprile 2011, la quale cita questo titolo. Nel frattempo, sul tema del bando pubblico del pluriuso di Catino, si è infiammato il dibattito politico a livello circoscrizionale. Cercasi nuovi locali per la chiesa di Catino. Il dinamismo del paroco Don Luciano Cassano è stato decisivo per far sbloccare il progetto che da tempo si era impantanato nelle sabbie mobili della burocrazia. Fra qualche mese potrebbe essere posta la prima pietra per l'edificio atteso da 5.000 fedeli. Bene, per il momento dagli studi del sito web www.radioprimacircoscrizione.info è tutto. Grazie per la cortesia attenzione e un risentirci alla prossima notizia. Grazie per la corte! Grazie.